Prima di fare tutto questo ci tenevo nel presentare il presidente dell'associazione Il Cammino, Ruggero Graniero, mio padre di Brasso, che ci sono venuti a trovare, loro sono ero, sono tantissimi e ci tengo nell'accontare tutto quello che loro fanno perché è una cosa meravigliosa, è una cosa che si assomiglia molto alla realizzazione di quello che poi andiamo a fare anche noi con le ragazze speciali, portandoli in scena, portandoli in giro oppure togliendo tutte le varie. Stai facendo il video Cosimo? Il percorso è simile, prego. Buonasera, sono il vicepresidente dell'associazione Running and Walking a Vici del Cammino. Il nostro compito è quello di far fare sport a tutti, bambini, adulti, anziani, tutti. Lo facciamo in due modi molto semplici. Il primo è quello di farciare le gare agonistiche in tutta l'Italia, in tutta la Puglia e poi facciamo la cosa più semplice che facciamo da quando siamo nati, il cammino. Facciamo escursioni in tutta la Puglia, sul Gargano, sui Monti Dauni, verso l'Esce, dappertutto. E poi per tutta la gente che non può andare così lontano, ci riuniamo tutti i martedì e i giovedì alle 8 all'ingresso del porto di fronte al Bar Conchiglia e facciamo 5 km di camminata molto lenta in modo tale che la possono fare tutti, donne, uomini, bambini, anziani e stiamo tutti insieme. Il nostro compito è proprio quello di aggregare gente e devo dire che ci stiamo riuscendo abbastanza bene e siamo veramente molto fieri di quello che facciamo. E soprattutto stasera ringraziamo loro che ci hanno dato questa possibilità ulteriore di presentarci e di invitarvi tutti in modo gratuito, senza impegno. Grazie di cuore amici del cammino che tra un po' mi dicono che porta bene e lo dovrà fare a questo punto il vicepresidente, quindi lo facciamo fare a lui. Dovrei dire la frase magica che è date il pane al cane pazzo. Date il pane al cane pazzo. Date il pane al pazzo cane. Date il pane al pazzo cane. Siamo pronti a una salata dedicata al sorriso, grazie di cuore. Noi siamo prontissimi, signori e signori, è con invenso piacere.